vediamo un sistema elimina vote per studi medici il micro touch è composto da erogatore di biglietti touchscreen dove ho preconfigurato i nomi dei medici ed ognuno ho associato un colore differente quando premo il pulsante mi fa visualizzare il numero a me assegnato e le persone in coda prenderò qualche biglietto di esempio vedete è molto veloce anche la stampa il tutto è completamente configurabile vuol dire se i colori posso aggiungere eliminare i nomi senza nessun problema tramite un tool molto semplice al corredo del sistema dell'erogatore ci dà un monitor dove lato sinistro io farò scorrere delle immagini a destra ci sono le i numeri delle chiamate per singolo dottore le chiamate il dottore le farà direttamente da un pulsante virtuale posto sul pc e una volta premuto comparirà sul display della sala d'attesa il dottore che chiama con il numero può vedere numero colore è tutto cambiato vi faccio vedere adesso come funziona il telecomando virtuale e posto sul pc fa vedere il dottore appartenenza c'è una chiamata in attesa è diventato giallo premo e verrà visualizzata la chiamata per qualsiasi informazione sui sistemi di emeacode multimediali verso di medici potete sempre contattarci ai nostri riferimenti grazie